C'è tanto traffico, c'è un traffico veloce, ci sono gli autobus che si fermano e ripartono proprio qua sotto. La situazione chiaramente era insostenibile. Erano degli uffici, il committente ha voluto acquisire questo immobile circa due anni fa a farlo diventare 40 unità immobiliari e di conseguenza abbiamo dovuto operare su qualcosa che già esisteva. Siamo in via Zodigo 3 e proprio qui sotto c'è la fermata della metropolitana, c'è la fermata dell'autobus, sentite il rumore dell'ambulanza, sicuramente dal punto di vista costico non è una bella situazione. È sufficiente chiudere la finestra per lasciare fuori tutti questi fastidiosissimi rumori. Siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato, sicuramente il risultato che abbiamo ottenuto dal punto di vista acustico ha portato a valorizzare gli immobili. Penso in una percentuale intorno al 10-15%. In questo momento io sono in una stanza dove non percepisco le auto e le ho qui a 15 metri con un traffico continuo. È come avere un ambiente soffuso, un ambiente quasi montano dove uno entra in casa e non sente più cosa succede all'esterno. L'isolamento acustico in questo edificio è particolarmente elevato, il migliore di tutti quelli che abbiamo mai raggiunto. Teniamo conto che l'isolamento acustico di facciata è garantito quasi solo dalle prestazioni dei seramenti e dalla modalità con cui vengono posati i seramenti. Sta per scattare il semaforo verde e sentite che rumore ha le ripartenze. Per poter lasciare fuori il traffico completamente è sufficiente chiudere la finestra. Vivi a Milano, hai il tram sotto casa, un locale notturno che non ti fa dormire la notte, la strada trafficata, il treno? Chiedici una consulenza e sapremo indicarti come si può risolvere questo problema e finalmente potrai dormire tranquillo senza sentire tutti questi fastidiosi rumori. Se vai sul sito www.finestasmart.it potrai compilare il modulo per essere ricontattato. Grazie per la visione!